Siamo qui con Renato Geglio, responsabile del settore giovanile del Villafranca veronese. Renato, lascia a te commentare la stagione sportiva del settore giovanile, in particolare del Villafranca, che a dir poco è stata meravigliosa. Come hai sottolineato bene te, è stata una stagione molto importante perché in tutte le categorie abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Secondo me ci sono due o tre cose da sottolineare. La prima è la scelta che abbiamo fatto per partire da quest'anno, da fare dagli allievi fino al 2007, sempre tre allenamenti. E questo, aggiungendo un allenamento, ha pagato tanto. Secondo è la professionalità dei ragazzi, anche dei natori, cioè voglio dire, quando vengono ad allenarsi, si allenano con la testa veramente dentro il campo e concentrati. E questo secondo me è stata una cosa molto importante. Terzo, l'organizzazione, ecco, e volevo raggiungere un'altra cosa, ecco, questi risultati, come dico sempre, non li abbiamo trovati per strada. Sono frutto di tanto lavoro fatto anche negli anni precedenti, grazie anche alla società che ha investito tanto sul settore giovanile. Esempio, quest'anno ha dato una grande mano anche il campo sintetico. Bene, hai riassunto in maniera molto puntuale e chiara l'annata sportiva. Lunedì prossimo alle porte inizia il camp. Camp estivo a Villafranca, ottimi risultati finora raggiunti e quest'anno che camp si aspetta? Allora, mi aspetto un camp molto importante perché rispetto agli altri anni abbiamo già più iscrizioni e soprattutto, ecco, questo secondo me è importante, abbiamo largato il cerchio, ci sono molto ragazzini da paesi limitrofici e questo per noi è una cosa molto molto importante. Perciò noi ce la metteremo tutta come organizzazione, fando mancare assolutamente niente. Perfetto, io Renato ti ringrazio, ti rinnovo i complimenti per l'ottimo lavoro che hai fatto te, come responsabile, tutti i tecnici e i ragazzi che hanno contribuito a questa meravigliosa stagione del Villafranca veronese. Un'altra cosa, ecco, come te mai anticipato quel discorso, ecco, io vorrei ringraziare ufficialmente tutti quelli che hanno collaborato per questi risultati importanti, partendo dai genitori, dai ragazzi, dagli allenatori e soprattutto dalla società che ci ha messo in condizioni da poter operare il meglio possibile. Grazie a tutti, adesso buone vacanze a tutti. Grazie a tutti.